L'attaccante dell'Inter, Lautaro Martinez, oggi è diventato papà per la seconda volta. La moglie, Agustina, infatti ha dato la luce, Teo, secondo genito della Coppa nel 2021. Ha avuto la prima figlia, Nina. Uno dei giorni più emozionati della nostra vita. Felici di tenerti tra le nostre braccia. La tua sorellina è a casa, che ti aspetta per riempirti di amore. Adesso siamo in quattro. Benvenuta a Teo. Ti amiamo. Tanti auguri da parte dei colleghi e connazionali tra i quali Paredes, il Dibu, Martinez e Pezzella. Aguero, Dibala, Zanetti, ma anche Dell'Ind. Di quadrato e della curva Nord. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, campanella notifica e un commento. Ciao. Ciao.